Ce l'ho detto! Non mi piacciono le storie di cellosia. Eh, lo dite? Allora ti vuoi proprio far morire. Oh, nessuno vuole farti morire, l'ho proposta come un'altra. Al club, ma in effetti, ma nel mondo c'è il kabuki! Una compaglia di Tokyo! Cosa che ragione, Setti? Sarà in giapponese, no? E se vuoi l'opeciotica, perché non andiamo al cinema, almeno il doppiato? Setti, andiamo al cinema, dove impariamo? Pianchiamo da qualche parte. Stiamo calmi! Calmi! Vedi, o meno cosa fanno al cinema. Setti, qualunque cosa facciano, che andiamo a discutere, usciamo da tre e quattro e buca. Agli ordini! Ma è la morte! Pronto, parlatevi di ordine. Pronto? Pronto? Chi era? Ma che ne so, avranno sbagliato? Vediamo se c'era un bello maestro al cinema. Anche con lei la facevi tanto lunga, eh? Con chi? Con chi? Con Samantha! Ma come si chiamava per l'incantevole bambolone, eh? Non era questo che viagava così, come noi era la mente, eh? Cosa fai? Ricominciamo. Ti prego sai, rannicchiato in fondo alla sala, mano nella mano, succhiando un gelato. Sfarrattuti dal pello! Più! 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 Oh! Più! 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 Per i ciotoli, vedete? Siamo sposati! Siamo? Siamo sposati. Si, ma non tra di noi. E comunque per favore non tocchiamo questo caso. E dove hai chiantato? Ma chi? Davy, quel pezzetto, quel morto di flamme che controlla il whisky, come gli vanno gli affari? Mare stretto! Non c'è bisogno di essere capito, eh? Senti, io non voglio darvi delle arie da Rockefeller, ma la materia che non già io vincere. Non ossiga più fratti. Io non vado ad aprire una piccola agenzia di viaggio proprio di fronte a un'universa cura. Eh beh, è stato stato l'unico locale che ha trovato quel prezzo. Sei già arrivato al verde dopo quel colpo da maestro nel commercio dei bici. Capita a tutti un colpo di scopo. Non posso fare l'amore con te col pigiama al tuo marito? Mi fissa! Ma non mi lascia stare, fosse solo il pigiama. Ma le tantefole. I suoi gemelli sul copone, la sua sventa sul condito. La spazzola col dorso di pelo di cammello. Amore, amore, non sei una cosa di mese a sudsuda, quella è anche mia. Eh già, tutto il comune, la lavanda a Madison, il diodorante, la crema di nuve, la nozione dopo barba, l'essenza di dopo muschiato della buiata. Ma che cos'è una chicca? Ma che... Eh no. Ma quanto pare... Purtroppo no. Mamma, sta a smettila di tormentarti così. È un tormento, mamma mia, sono troppo sensibile. Ma io lo so che sei sensibile. E' questo che ti amo. Grazie.